ciao guardate qua questa è l'armonica la mia nuova armonica owner molto famosa special 20 l'ho presa su amazon devo dire che interessante perché mi ha colpito molto che questa un suono caldo e dark perché io tendo preferire i suoni più i toni bassi toni caldi non quelli striduli quindi come prima armonica ufficiale o a parte quella vecchia mia sorella che tremolo che mezza rotta vabbè in blessing di anni 90 80 questa devo dire che è stata una buona scelta secondo me dato per il tono caldo allora in qua eccola qua qua è stimata come 5 anzi 4 stelle e mezzo adatta per country pop rock folk va bene comunque questa è la scatola mentre la scatola ci sono anche nel tagliacino per fare un corso gratis per 30 giorni come per imparare suonare l'armonica ed eccola qua una bella custodia semplice riporla dopo ogni uso e mi ha fatto proprio una vera e buona impressione molto bella piccola sì perché non sono abituato a queste piccole qua 10 fori esternamente di metallo mentre qua invece plastica mi ha fatto proprio una bella impressione mia cosa che mi ha colpito è che basta soffiare dall'esterno e già si sente il suono che sono abituato cose più economiche bene questa è un anche molto famoso tedesco delle armoniche fatta in germania bene di sola provo pronto a casato visto che comunque ancora non so molto suonare l'armonica non so se gli diamo molto bello il suono molto squillante e sì effettivamente un suono compatto non so se gli diamo non so se gli diamo molto belle mi piace molto molto compatta bella vi ringrazio di aver visto questo video ciao ciao